E ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su FIFA 21 con il nostro MK Dons. Allora, mi sono ispirato a Falco Nero per le slide, ho messo 4 minuti per rendere le partite un po' più corte e un po' più godibili e in più ho fatto errore tiri aumentata, errore passaggi aumentata e per il momento mi fermo qua. Ho fatto la CPU errore tiri abbassata, errore passaggi abbassata, ho alzato l'abilità portiere, il piazzamento marcatura e la frequenza di inserimenti, l'altezza di pesa l'ho abbassata, ho abbassato la posizione degli esterni, il tocco di prima come errore perché molto spesso vediamo che la CPU sbaglia nel tocco di prima. Ovviamente non ho fatto tutto come Falco Nero, mi sono solamente ispirato, poi se il gioco è ancora facile, chiaramente possiamo provare a fare tutte le sue slide per renderlo ancora più difficile. purtroppo questo gioco non è affatto tanto bene perché insomma come dire io che devo andare a mettere mano alla difficoltà per renderlo più appagante vuol dire che c'è qualcosa che non va perché io non sono assolutamente uno dei migliori giocatori al mondo di FIFA, sono un giocatore classico di FIFA normale che gioca da tanti anni al gioco ma cioè non è per niente una sfida, poi ho messo in prestito Hawkins, l'ho messo in prestito poi anche Yates o come si dice, non lo so, anche Ainz e Au e basta per farli crescere un attimo in prestito visto che non giocano e tanto vale più che tenerli in primavera, tanto vale promuoverli e farli giocare in prima squadra. proviamo la partita, le slide, proviamole insieme, vediamo come va, intanto questa squadra sta ultima in classifica quindi se vinciamo con un po' di scarto non è un problema, ci può stare, ci può stare. adesso vediamo come va si inizia ragazzi con le nuove slide vediamo un po' come va sta cosa spero bene sinceramente perché vorrei arrivare a vincere magari tanti trofei però con una difficoltà che mi faccia dire sì cazzo cioè mi faccia casare non una cosa che dico le vinco tutte perché è veramente ridicolo è veramente ridicolo ragazzi a volte è troppo facile ecco appunto ho fatto 6 da 0 nella scorsa partita 6 a 0 non è un risultato normale una volta ci può stare ma non tutte le giornate che faccio 5-6 gol cioè diventa imbarazzante è poco credibile soprattutto comunque per il momento non sembra per niente facile mamma mia Middleton cos'ha parato bravissimo il nostro porterone Paul Paul ripartiamo Hoffman con calma Colibali per Till Surman no Surman porca miseria nostro 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 Delev Frazer Delev ancora Frazer Hoffman e Delev ma quanto ci metti cioè era il fuorigioco da tipo mezz'ora quanto ci mette di entrare una quaresima Hoffman bravissimo Hoffman Frazer no Delev Delev mio attenzione Dogeley ragazzi mi prego mi prego niente aiuto non riusciamo a uscirne bravo Frazer Frazer dai Hoffman Hoffman per Frazer ma porca miseria porca eh si vede che i passaggi sono più difficili ragazzi si vede finalmente erano troppo facili dai diciamoci la verità diciamoci la verità allora Till eh ma se qualcuno ci va no Hoffman no 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 caro Hoffman non puoi sbagliare da lì non puoi vai Sulman marca marca ruba palla niente bravissimi Bravo Collins Che intervento Però non riusciamo proprio A fare nulla Mamma mia Middleton c'è Collins cosa fai Collins Che passaggio è A Collins A Marta che schifo Capito che l'errore di passaggio è un po' aumentato Però questo non è un passaggio Questo è veramente un calcio a terra E schifo Non ho parole Bravo Keo Fraser Però bravo Fraser Combatti niente Difficile ora Non è facile per niente Non è facile per niente ragazzi Altro che prima Fraser Fraser Sento Fraser Fraser ancora lui Anzi Delev Che Fraser Delev Mamma mia che tiro Mamma mia che tiro Questo sarebbe entrato Normalmente questo L'avrebbe incrociato Nell'angolino basso Alla sinistra Del portiere Anzi Alla destra Del portiere Non alla sinistra Ma che dico Vabbè Comunque 0-0 Ci può stare Ci può stare Dai Sono contento Sinceramente Ci voleva un po' di difficoltà Bravo Fraser Surman Till Hoffman Hoffman Eh Hoffman però Dorme Bravo Fallo ma bravo Ci sta Ci sta Hai fatto benissimo Amico mio Hai fatto benissimo Bravo Dele Sorensen Bravo Sorensen Per Hoffman Per Till Hoffman L'hai visto Delev Delev Per Sorensen 1-0 Ragazzi 1-0 Sorensen La sblocca Sorensen La sblocca Ottimo Mi sa che abbiamo trovato Una Una quadra Finalmente A questa difficoltà Nel senso che È già più appagante Rispetto a prima Molto più appagante E Ma tantissimo ragazzi Rispetto a Alla scorsa difficoltà Che era Qualcosa di imbarazzante Diciamoci la verità Bravo Koulibaly Che off Sorensen Niente Sorensen Ci ha messo mezz'ora Ma capi cosa doveva fare Collins Surman Per Hoffman No Hoffman No Hoffman Oggi è un po' sparito Bravo Sorensen Surman Eh però Che passaggio Della Ecco Del K Del K No Paul Attento Paul Attenti ragazzi Bravo Che off Che intervento Fraser Per Delev Mamma mia Delev Che passaggio Assurdo Mi dobbito a sta cosa Sì ma Poi arriva quell'altro Che la tira su Solo perché ho spinto Cerchio Per pressare I mortacci Vabbè Comunque Vabbè Bravo Sorensen Io vorrei fare qualche cambio Ma la palla non esce più Sorensen Fraser Mamma mia Mamma mia Allora Ragazzi Io metterei Boateng Per Fraser No anzi Per Surman Anche più stanco Yukton Per Sorrensen E Gonzales Per Till Dai Interviene con decisione Tre cambi Per dare un po' di freschezza La manovra E niente Portiamocela a casa No Fraser Attenzione No Gonzales Ah Poi tosta Comunque Arrivare in porta Ora Davvero tosta Rispetto a prima E questa è ultima In classifica Pensa con la prima In classifica Sarà un macello Mamma mia Che off Ma che passaggio è Mamma mia Ti sei fatto perdonare Ti sei fatto perdonare Hoffman Hoffman Ah Boateng Dai Mamma mia Che Che Mazza Che pipponi Alle volte Alle volte Veramente Che pipponi Mi verrebbe da dire Ragazzi Manca poco Non facciamoci sorprendere Ecco appunto E vabbè Middleton Para Mamma mia Siamo al novantesimo Ha fatto un miracolo Ha fatto un miracolo Ragazzi Diciamoci la verità Bravo Collins Brian vai Niente Brian Comunque Mi sa che con ste slide Non è che Già era scarso prima Figurati Oh Non è finita Oh Bene Tre punti Veramente Importanti Mi sa che ci fanno agganciare La prima in classifica O addirittura La superiamo Comunque Partita Veramente Imbarazzante Abbiamo fatto Due tiri In porta Bisognerà Abituarsi A questa Difficoltà Time for a quick question No for the question Bene bene Allora Hawkins Non mi trovo bene qui Non mi trovo bene Ma si è appena arrivato Ma che Io veramente Veramente Non capisco Io non capisco A volte Ste meccaniche Di gioco Bah Appena arrivato In prima squadra Non mi trovo bene qui Scusa Ti facciamo schifo Scusa Non volevo farti schifo Comunque Abbiamo due partite in meno E siamo a tre punti Dal primo posto Oh Offerta per Au Vai vai Au Vai 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 No no Non diritto di scatto No 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 Io non voglio Devo avere Diritto di scatto Ma ci mancherebbe Io voglio Che cresca E che torni Qua a casa A me mi interessa Avercela A casa mia Non che vada in giro E poi Rimangerà Allora Presito Un anno Ok Questo va bene Ciao Hawkins Ciao Addio Ci beccano il prossimo anno Poi abbiamo Una partita contro I Bristol Rovers Che sta Quinto in classifica Che comunque Oh Non sono scarsi Beh la squadra Come sempre È quella titolare Walker qua E niente Andiamo a giocarcela Speriamo bene C'è anche la pioggia Quindi Insomma Vi lascio immaginare Ma che è quello Vabbè Tutto molto bello Ma andiamo avanti Andiamo al sodo Dai ragazzi Vi voglio carichi Mi voglio carichi Giornata di campionato Che sta per avere inizio Mi aspetto Un match fantastico Stefano Match di campionato Che speriamo Possa regalarci Emozioni E gol E molto Dipenderà anche Dall'atteggiamento Con cui scenderanno In campo Le due squadre Ma qual Ah Pensavo fosse fallo Per un attimo Dicevo Ma quale fallo Cioè Invece era fuori gioco Meglio Meglio Ok Sorensen Dai Surman Per Till Bella palla Till Vai Vai Till Corri Till Niente Che brutto passaggio Che brutto passaggio Ammazza Che roba brutale E si Che apertura Hanno fatto Questi No Bravo Collins Che intervento Di cattiveria Bravo Bravo Mi detto Mi detto Mi detto In tua Bravo Delev Paul Fraser Per Hoffman Hoffman Vai Hoffman Vai Hoffman Che sei veloce Ammazza Che passaggio Hoffman Ma che passaggio è Però così forse troppo Ragazzi Adesso Con tutto il bene Ma Cioè Sti passaggi Sembra Fatti da bambino Di Cinque anni Con evidenti problemi Psicomotori Vai Vene È tua Niente Calcio d'angolo Stiamo giocando bene Sorensen Niente Cosa fa Sorensen Cosa fa Pazzito Sorensen Impazzito Ragazzi Completamente La presa così Con la testa Ma Senza neanche Sembrava morto Non so Tipo Quelle Boh Non so Non so come spiegarlo Tipo una statuina Ecco Sembrava una statua Che ne arrivasse la palla Così proprio spiovente E rimbalzasse Ma E basta Rimbalzasse Eh Rimbalzasse Come parlo oggi Vai Fraser Vai Fraser Vai Fraser Niente Niente Nessuno che si muove Io non so cosa fare Per Till Mamma mia Che brutto cross Che brutto cross Sorensen Per Keough 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 di testa Till Per Surman Niente Allora Ditelo che dobbiamo perdere Niente Paul Paul di testa Ma la palla Non funziona Non va Non gira Non è potente È lenta E questo può in qualche modo Condizionare Le scelte Dei due allenatori Dele No Era una mina questa ragazzi Era una mina Peccato No ragazzi Ma che fallo è Ma che fallo è È giusto il fallo Io intendo Paul Che falli fai Mortacci tua Bravo Colibari No però Bravo No Questo non è fallo Però eh Non mi sembrava fallo Ragazzi Questo Sinceramente Parlando Middleton Ma che parata Ha fatto Comunque Questo portiere È un bel investimento È un bel investimento Ragazzi Mamma mia Mamma mia È molto giovane Può crescere Veramente tanto Questo portiere qui Ultimazione È però Niente Passaggio per Hoffman Fa abbastanza schifo Due minuti di recupero Come indica Chiaramente Quarto ruolo Oh è finita No? È finita Albitro Ottima lettura Adesso Che c'è a contropiede Non è più finita Anzi È finita Scusate Ora che c'è a contropiede È finita la partita Vabbè Anzi Primo tempo Comunque Comunque È qui È liberata È liberata Si fa veramente tosta Sta partita qui Si fa molto tosta Ragazzi Molto tosta Bravo Delev Che passaggio Delev Mamma mia Mamma mia Se non ho capito male C'è stato un calcio di rigore In uno degli altri match Sentiamo lo studio L'arbitro ha concesso il penalty Ai padroni di casa Stenzione Al Bristol No Paul Ma sempre falli fai Sembrava regolare questa Eh Questo è il goal ragazzi Questo è il goal Me lo sento Me lo sento Mamma mia Che rischio Veramente che rischio No La volevo passare off Mamma Non è arrivata E ora Trova spazi È tosto Trova spazi Non è facile Ora Davvero complicato Vai Delev Vai Delev Sei tutti noi Credo Mamma mia Ma chi è che ha i numeri Scusa ma Di chi sta a parlare Che off Che off Bravo Paul Middleton Middleton c'è È tosto È tosto È tosto È tosto È tosto È tosto Non si riesce A venire fuori Non si riesce Sulla corsa Surman Niente Poteva nascere qualcosa di interessante Attenta alla difesa Dai dai ragazzi Possibilità di controviene Attenzione Attenzione a che off Contro Allen Allen Come si chiama Middleton c'è Sembrava fuori gioco Un po' Comunque Cosa possiamo fare Non lo so Non ne ho idea Walker Ai Anzi Takkar Che è molto veloce Potrebbe darci Un po' Di felicità Kasumu Per Fraser Che ultimamente Lo vedo un po' Sotto tono Sinceramente Però Vediamo un po' Se cambia qualcosa Bravo Kasumu No Paul Però Sti passaggi No Middleton Ancora lui Ammazza Ammazza che portiere Ammazza che portiere Lo sto amando Bravo Till Mamma mia Che rischio Surman Kasumu Per Denev Takkar Niente Calcio d'angolo Dai Ancora Ancora Surman Per Collins Ancora Surman Per Paul No Mortacci tua Paul Di quanto è uscita Di un millimetro Di un millimetro No Till Ma che stop è Till Ma che stop è Till Vabbè E' finita Ne sa Ne sa Niente 0-0 Eh ci sta Ci sta E' quinta in classifica Ci può stare 0-0 Ci può stare Insomma Ecco Questa partita E' stata un po' Più animata 4 tiri Sto già migliorando Un po' Una volta Vedrete che Prenderò la quadra E E niente O comunque C'è questo Middleton Che sta veramente Spaccando Eh ragazzi Diciamoci la verità Aggiornamento mensile Ma questo no Questo no Questo Non è male Però 15 anni Non è che posso farci Più di tanto E' ancora troppo giovane Abbiamo il Liverpool Porca miseria Ragazzi Il Liverpool Due anni Due anni di prestito Per l'Ainz Questo cresce ben Due anni Ragazzi Mandiamolo Mandiamolo Vai vai Fatti un po' Di cultura E niente Andiamo avanti Ancora un po' Kergil Vuoi giocare Contro il Liverpool Kergil Ci penserò Ci penserò Dai 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 Kergil Che ci penserò E poi abbiamo Una squadra Anzi Vivaio E' un portiere Pure questo Il secondo portiere Potrebbe essere Piano di crescita Portiere libero Equilibrato Farei dai Al momento Non si può Troppo giovane Purtroppo Non si può Vabbè Ragazzi Nel prossimo episodio Giocheremo Nella FA Cup Contro il Liverpool Sarà Sarà tosta Poi con queste nuove slide Tanti auguri Prenderemo Una bella sveglia Già lo so Però Insomma Ci proviamo Ci proviamo Niente Ragazzi Ci becchiamo Per un prossimo episodio Ciao